Scherzo horror a mia mamma, sì avete capito bene, non sarò da solo perché ci sarà anche Chiara, ma in questo momento si trova a casa. Pensate che questo, questo, sia una cosa di Halloween? No, vi sbagliate, sono io che sono un cretino. Praticamente l'intro del video la sto registrando a video finito e qui avevo, se andate a vedere dopo il video, cosa che vi consiglio di fare, avevo il tatuaggio di Joker, la Jay, e per farla andare via, dato che dovevo uscire e non volevo avere un tatuaggio in faccia, ho iniziato a sfregare col dito, così forte da causarmi una bruciatura. Comunque, lo scherzo horror sarà così fatto, saremo io e Chiara, vestiti da Joker e Harley Quinn. Ci nasconderemo in casa, non in camera, ma in sala, quindi un po' più insolito. Lei pensa che a casa non ci sia nessuno, perché le ho detto che andava a dormire da Chiara. Si spaventerà? Secondo me sì, perché comunque ha molta paura dei ladri. Il resto lo vedrete nei video. Scusate le condizioni ancora, ma mi sono svegliato da poco. Buona visione, divertitevi e fatemi una risata. Grazie sempre del supporto, perché siamo 500.000. Vi amo. Ragazzi, ci siamo truccati. Mi sono a fregna. Pensi di essere più bella di me? Un po' sì. Sincera, sì. Ci siamo truccati, devo ancora finire due robe. Mia madre sta per arrivare, quindi noi ci andremo a nascondere, come abbiamo già detto prima. Facciamo i pazzi. E facciamo i pazzi e spacchiamo tutto. Spacchiamo tutta la casa. No, forse non tutta la casa. E questo è pieno. Ok, va bene. Ci vediamo direttamente alla scena del crimine. Ci siamo. Ci siamo, stiamo per fare lo scherzo a mia madre. Quindi abbiamo spiegato tutto prima. Ora siamo truccati, siamo belli, siamo freschi. Ma guardate questo tocco di classe. Aspettate, piano piano lo vedrete. E' arrivato qualcuno. E' arrivato... E' arrivato qualcuno. Il nostro peggior nemico. Oh. Mio fratello Batman. Batman te lo mangio, Batman. Joker. Mia mamma farà la parte di Batman. No, sto scherzando. Tra poco dovrebbe arrivare a casa. Quindi non si aspetta niente. Andiamo a nasconderci in sala. Io c'ho un po' d'ansia. E' uno, è il suo secondo scarzo come madre. Paterina, mi dispiace. Mi dispiace. Io spero non pensi. Ma tu sei Ashley. Sei la pazza vera. Sei tu il pazzo. Io non sono pazza. Che sia chiaro, mamma di Fabio. Io non sono pazza. E' lui che mi fa diventare pazza. Lo sa. Vabbè, dopo questo dissing possiamo fare lo scarzo a mia madre. Eccoci qua. Ma a un certo punto... Salve signora Flavia. No, no, ragazzi. Salve signora Flavia. No, Fabio. No, noi siamo Joker e Halloween. No, voi siete scemi. Io fra un po' muoio di infarto. Perché? Io sapevo che non eri a casa e questi scherzi non mi piacciono. Non mi fa venire un infarto. Questo... Siete due matti. Ma che matti? Non siamo matti. Fabio, mi sento matti. Non siamo matti. Dai. Questo era lo scherzo di Halloween. No, questo era lo scherzo. Questo era lo scherzo di Halloween, ragazze. Guarda, vetri dappertutto. Vetri dappertutto. Ti denuncio. Eh? Ti denuncio. Ti denuncio. Allora, siamo vestiti bene però, no? No, Fabio. Siamo vestiti bene. Facciamo un giro? Sei un delinquente. Sei un delinquente. Fabio, smettila. Di fare? Di farlo stupido. Oggi è il 31 ottobre. Me ne frego che giorno è oggi. Tu non devi... Guarda i vetri, tutto, rompi tutto. E questa cosa qua, la devi fare. Vai a far teatro. Ma io ora ho trovato la mia compagna. Guarda, a me mi dispiace questa ragazzina qua. Che carina. Fabio. Mi dispiace. A me mi viene da ridere per non piangere. Vieni, ti faccio vedere. No, non vengo più. Stai camminando sui piedi. Vieni, vieni, vieni. No, non vengo. Perché sembra che io sono in questa cosa qua, invece io non ci sono, io ho un lavoro, sono una persona normale. Anche noi siamo persone normali. No, voi siete un po' strani. Non c'è da farsi vedere. Cosa ridi che c'è da farsi vedere veramente? Vieni, vieni, vieni. Ecco, andate lì e fate voi il show. Noi non siamo strani. Un pochino. Siamo diversi. Ora pulisci però. Siete diversi. Eh no, siamo diversi, quindi non puliamo. No, no, ora pulisci tutto. Guarda, io me ne rivado via adesso. Un bacino. Ma che bacino? Qua c'è stato un piccolo problema. Allora ragazzi, abbiamo finito ora lo scherzo. Intanto guardate il tatuaggio. Ok, c'è il delirio qua. C'è un po' da sistemare. Questa però me la tengo io. Ah, questa te la tieni? Se mi fai arrabbiare. Ma cosa dici? Ci vedete. Allora, voto da 1 a 10 dell'outfit mio. Non mi si vedono santo gli addominali con questa cosa bianca, ma vi assicuro che ce li ho. E invece voto da 1 a 10 di Harley Quinn. Ciao. Ciao Flavia. E mentre. Ciao. Eccoci qua ragazzi. Dammi il tempo di alzarmi, baby. Ah, ok. Eccoci qua ragazzi, c'è ancora la J di Joker, perché abbiamo finito lo scherzo, questo è l'outro del video, YouTube. Cioè la fine del video? Sì, la fine del video. Non l'ho mai fatta, non so cosa sia. La facciamo sempre. Ah, tipo... Grazie di aver visto questo video, di essere arrivati fino a qua. Ok. Da Joker e Harley Quinn è tutto. Speriamo... Diteci se vi è piaciuto, se siamo stati abbastanza fuori di cesta. Oppure no. Oppure facciamo una seconda parte di Harley Quinn. No ragazzi, anzi fate una cosa, andate nei commenti, commentate con un nuovo scherzo da fare a mia madre oppure a lei. E niente, al prossimo video, lasciate... Al prossimo bicchiere rotto. Sorvoliamo. Sorvoliamo, proprio va da lontano. Buona continuazione. Buona... buona vita. 3000 like. Ciao!